Sono agli uffici INSS di Radis Poli Ligua, sono in coda, spero di avere requisiti per ottenere la pensione, però vi devo fare una raccomandazione importante, mi raccomando, se non l'avete ancora comprato, non comprate questo libro. Adesso gli altri illusi redattori vi spiegheranno perché, io purtroppo li devo lasciare perché è il mio momento, anzi spero di arrivare a quota 103, lo devo scoprire, metto la taschielina e vado, vi faccio sapere. Ah, mi raccomando, una cosa importante, nessuno dei presenti smetta di lavorare, altrimenti a me, la pensione, chi me la fa?